Vai! Buongiorno a tutti, siamo qui oggi perché stamattina ci sono arrivate tantissime telefonate da parte dei cittadini e ci hanno detto, ragazze andate avanti più forte di prima, ma perché? Cosa è successo? Noi siamo qua, il gruppo Viviamo a Manella è qua e vogliamo ringraziare tutti quei cittadini che in questi giorni ci hanno dato forza e speranza. Sinceramente politicamente siamo giovani, ma vi possiamo assicurare che questo è il gruppo politico più bello che abbiamo mai visto sul nostro territorio e non solo. Siamo vivendo un'esperienza bellissima, è cambiato il nostro modo di vedere la politica e stiamo coinvolgendo anche i cittadini in questa ondata di entusiasmo che vi possiamo promettere che questa ondata, il 26 maggio, coinvolgerà a tutti. Pasquale Minarchi ci ha insegnato tutto, ci ha insegnato come si parla con il popolo e come si conquista il cuore delle persone. Ci ha insegnato come si amministra e come si risolvono i semplici problemi dei cittadini. E noi non possiamo fare altro che dire che prendiamo gli insegnamenti di Pasquale e cercheremo di implicare il suo modo di fare politica. Questo gruppo è solido, forte, energico e stretto, strettissimo, intorno al nostro candidato sindaco Pasquale Minarchi. Siamo qui con voi, per voi e per Pasquale. Ci aveva anticipato che non sarebbe stato facile, ma a noi le battaglie semplici non piacciono. E allora ascoltiamo il consiglio dei cittadini. Siamo qua come prima, più forti di prima. E questa sera vi invitiamo alle ore del turno a 30, presso la piazza Sant'Anna di Tania Nella, per il nostro comizio. Grazie e buonasera. Grazie.